E ben a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in un nuovo video Questa volta sarà probabilmente, questi qui sono gli ultimi video che faccio dicembre perché fra un po' vi prendo la pausa L'ultimo video che vedrete sarà la prima accensione delle lucine che stanno lì Tra parentesi, me ne sono arrivate altre, eccole qui sono in questa busta Poi domani forse faccio un video con sole molto perché altre le ho montate E non ho finito il video perché mi sono dimenticato, vabbè Comunque poi domani forse ve le monto insieme a voi E' bello a tutti ragazzi, sono Pietro e bentornati in un nuovo video Ed oggi siamo qui per darvi alcune spiegazioni Però prima di iniziare voglio precisare che questi qui che state vedendo saranno gli ultimi video di dicembre Dopodiché se ne parla direttamente dopo Natale il 28-29 Il 31 dicembre parto con dire che ci sarà una mega, un iper mega video Cioè cercherò di fare un iper mega video da un altro computer di Roblox Perché voglio comporre una serie che voglio finirla entro il 31 dicembre Quindi il 31 dicembre faremmo lo speciale fine anno Con un video di Roblox che durerà 1 a Mac barra 2 ore Poi lo caricherò in Premiere, sempre il 31 dicembre Sarà tipo una serie di Natale Poi non vi spoilerò altro perché poi bisogna vedere ancora se il computer li legge Vabbè comunque non perdiamoci i chiacchiere ed iniziamo In questo video voglio darvi alcune spiegazioni Esempio, cosa ci sarà l'8 dicembre Perché io e Gala non stiamo più facendo il film E altre cose Quindi non perdiamoci i chiacchiere ed iniziamo Partiamo col primo Allora, cosa ci sarà l'8 dicembre? Beh, puntate le svegli l'8 dicembre All'ora 14 No, alle ore 20 Perché alle ore 20 dell'8 dicembre Accenderemo le lucide Già Alleluia Finalmente la graia non resisto più Voglio accenderle Ma la spina Sta qui la spina Sta qui la spina Cioè sta qui però non sta messa Non metterà mai Vedete sta qui la spina Questa qui la vorrei attaccare Per vedere la margina palizia Ma non posso farlo Che brutto Ragazzi È bruttissimo non poter accendere le lucide Perché poi devi fare il video Eccole qui Attaccheri questa spina Ma non lo posso fare Perciò posiamo di nuovo questa spina Prima che 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 venga lo sciopone E attacchi le luci Quindi L'8 dicembre Non perdete Non perdetevi la premiere Perché accendiamo ste bene Lettissime lucide Insieme Però voi Starete pensando Eh Pietro ma tu intanto Stai Con vista su tiktok Stai facendo tiktok Vuol dire che hai Acceso le lucine No ragazzi Quelle sono dell'anno passato Per farmi solo Rialegrare un po' le lucine My lovely lucine Comunque non mi interessa L'8 dicembre Metto la spina Quello che è E le accendo Quindi L'8 dicembre Alle ore 20 Punta delle sveglie Secondo Perché non sto più Facendo video con Gala Cioè Non sto Vedete che io Non sto più Facendo video con lui Perdiamo l'indicato No sto scherzando Il fatto È che lui Ultimamente È molto impegnato Non si deve gestire Il suo canale Gas Stai guardando questo video Non prenderla male Guarda video con la verità Non stiamo più facendo video insieme Perché semplicemente Roblox da pc È morto Nel senso Mi chiede la verifica umana Che non Madonna sta fascetta La spezzo Comunque Stavo dicendo Mi chiede una verifica umana Con dei numeri Io Noi mettiamo I numeri giusti Ma non funziona Quindi per quanto Alla serie Di Roblox con lui È stata sospesa Poi No domani Mi devo mettere a provare Perché se Devo provare A ripararlo Perché Poi Se non L'8 dicembre Non posso fare un cazzo Poi Partiamo Andiamo alla terza I video Benedettissimi Vi Video domenicali Amma mia Ragazzi Sta cosa Viena di sì Nel 2018 I video domenicali Ma non li ho mai fatti Beh Voglio dirvi Che vi prometto Che da 2021 Inizieremo Con sti Ben Dissimi Video Informazioni Domenicali Non li sta facendo Perché non mi va Di parlare di apple Che schifo Apple Sperare da un'italia Vabbè Siamo avanti Quindi Dal 3D Sì Sì Vabbè 3D Dicembre Dal 6 gennaio Sì 6 gennaio 2021 Anche che non è domenica Un attimo Già Ok Il 10 gennaio Domenica Il 10 gennaio 2021 Inizieremo Questi Ben Lettissimi Video Domenicali Ci dobbiamo Anche sto Sforzo Poi Quinta Cosa Vorrei Iniziare Delle serie Sì Vorrei Iniziare Delle serie Come facevo Una volta Stocco Sponda Le piattaforme Mamma mia Cosa ho nominato Comunque Stocco Sponda Le piattaforme Quella Vorrei Iniziare Come vorrei Iniziare Tante altre serie Tipo Minecraft Raga Minecraft Da quando Non porto Minecraft Facciamo Così Ditemi Voi Cosa Volete Se volete Minecraft Se volete Stocco Oppure Se volete Tutto Quindi Via Decide Per ora Anche ste serie Sono state Messe in pausa Perché Perché non mi va Per un cazzo Di fare ste serie Perché poi Dovrei Ritornare In benedettissimi Lago dal cellulare No Per favore Mi venerò Sciupore Se non pensarci Raga Comunque Come avete notato C'è la musica Di Natale In continuo Perché ho dovuto Mettere Sempre la stessa Di un ora Perché non ho Altre musichette Di Natale Quindi Quindi Questa è la quinta Sesta Farò dei video In cui rispondo Alle vostre domande Si Farò dei video In cui rispondo Alle vostre domande Però se voi Non mi fate le domande Che mi rispondo Da solo Dovete farmi le domande Raga Se non mi fate le domande Non posso Non posso Fa ste genere di video Quindi questo E' anche il motivo Di perché Non le ho mai fatti Quindi Passiamo alla settima Cosa c'è Alla settimana Ah si Upgrade Dalla scrivania No grazie Upgrade Dalla scrivania Non ci se ne sanno più Dai Comunque Ottava Farò delle dirette Su Instagram Si ragazzi Su Instagram Mi permette Di fare Delle benedettissime Dirette Quindi da OBS Organizzerò tutte Delle dirette Su Instagram Così 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 raga Possiamo farci Le live Posso invitarmi In diretta Posso invitarvi In diretta Quindi se volete Seguirmi Il profilo Si chiama Pietro.fabrizio.330 Vi lascerò Un link In descrizione Se è possibile Nona Tornerò con le benedettissime Premiere Ma certo Ah questo video Verrà caricato Premiere Ma sto scherzando Decima I video rispondi Alle domande Con Gala Quello lì Che abbiamo fatto Non mi ricordo Quando Che abbiamo risposto A 100 domande Insieme Torneranno Si Quelli lì Potranno tornare Però Devo aspettare Che Gala Naturalmente Disponibile E devo cercare Altri siti Possibilmente Non troppo personali Perché se ne ho poi Gala Da Firenze Passa da Cerra E mi chieda Degli schiappi E via Comunque Undicesima Undicesima Sì Vabbè Ragazzi Undicesima Perché mi sono perso Con i numeri Allora Qual è la undicesima Ah sì Come Tornerò A registrare Lo schermo Del computer Sì Che ci tornerò Però Con quello Del telefono La vedo Un po' Dura No Spacca Vabbè Lo ricompro Ehm Tornerò A Ho perso La fascia Ah è Stai Ehm Quindi Tornerò A registrare Lo schermo Del computer No Ovvio Però Per riguardo A quello Del telefono Probabilmente No Anzi Non ci Tenderò Più Perché Sto Cosa È più Di Lago Ok Voi Non lasciate Like E Quindi Sarò Costretto A tornare Al benedettissimo Minecraft Ehm Ma 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 Questa Sedia È Instabile All'improvviso Mi frollo La sedia Quindi La prima Cosa Che farò E sarà Comprarmi Ehm 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 Madonna Mio Quindi Ma Qual'era Lì Ehm Dodicesima Qual'era La dodicesima Qual'era Qual'era La dodicesima Vabbè Vabbè Raga Di musichette Di Natale Abbiamo avuto Già Abbastanza Quindi Comprerò Delle nuove Telecamere Non penso Cioè Accenderemo Una con il 4k Che costa Un'altra Penso che La comprerò Presto Sì Comunque Le si Le comprerò Perché Con il 4k Mamma mia Il 4k Spinto Naturalmente Perché Dei cinesi Quindi Vabbè Diciamo Tredicesima La tredicesima No La pensione Quindi Passavo Guardi Ma Quindi Ehm Ah Sì Ehm Ah Sì Tredicesima Vi farò Un unboxing Di Stamber Da qui Una Un 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 Addio L'ho rotta? No Non l'ho rotta Questa cosa Vi farò Mai L'unboxing Di sto MX10 Che vi promisi Due anni fa La risposta È Sì Dopo Il video Domenicale Ci sarà Il benedettissimo Unboxing Di sto Cosso E così Lo togliamo Da mezzo Stamber Perché Amici Pietro Ma devi fare L'unboxing Di un pezzo Qui Pietro Ma devi fare L'unboxing Di quel Cosso Devi fare L'unboxing Di quel Cosso Di Di quel Cosso Sì Lo faccio Però Datemi Il mio Tempo Amici E fa Il giorno Piangeremo Tutti Le mie Lucine Ve lo farò Il 6 gennaio Ve lo faccio Quel video E poi Il 10 Ragazzi Sto facendo Un sacco Di casini Mi dovrò Creare Una scaletta Col calendario Probabilmente Perché Probabilmente Mi scorderò Tutto Quindi Il 6 dicembre Vi farò Il benedettissimo Video In cui Devo tagliere Le luoghe Beh Come Vi faccio Quello In cui Accendo Vi faccio Anche Il video In cui Le spengo Per l'ultima Volta Cioè In cui Le accendo Per l'ultima Volta Vabbè Quindi Facciamo Le ultime Quindicesima Ho Un altro Canale Creerai Altri Canali Si ragazzi Creerò Altri Canali Ma In realtà Ce n'era Uno Sistema Operativi Dove Faccio Vedere Tutte Le cazzate Di Windows Ve Lo farò E' Aperto Il Canale Però Devo Caricare Un video Cioè Vi lascerò Il link In Descrizione Se L'ultimo Video Di Dicembre Penso Che Ve lo Faccio Quindicesima Farò Altri Video Promossi Verso Bocciati Tipo Si ragazzi Farò Altri Video VS Però Non so Che cosa Non le farò A gennaio 2021 Li faccio Quando Mi sembra Opportuna Perché Per il momento Non ho nessun VS Da fare Sedicesima Se Raga Ma La sedicesima No Quella Che si Piano i soldi La sedicesima Ah si Sedicesima Farò Farò Mai Un video In cui Faccio Questa cosa Senza Non posso Stare Perché Tu Me La Porti Io Ok Mi Lasci Tu Senza Non ho più Senza Io Potrei Morire Quindi Dei video Di canto Si Ragazzi Per quello Ci creerò Anche Un canale Però Sta Cosa Succederà In futuro Non succederà Nel 2021 Ma Penso Che Verso Febbraio Marzo Del 2021 Facciamo Dore Stata Cosa Però Naturalmente Poi Io Mi Tengo Aggiornati Sul canale Dicessettesima Farò più video Nel canale No Ragazzi Anzi Io In video Ancora Di più Il 2021 Perché Dallo 2021 In poi Fino a giugno Devo Fare Devo studiare Sai Perché Poi Penso Che Penso Che A Gennaio Ci saranno Gli esami A scuola E Gennaio Penso Che A maggio Ci saranno Gli esami A scuola Quindi Dal 2021 I video Si ridurranno Ancora Di più Come faccio Caricato Tutti Sti Video Per Riguardo A quanto Il numero Dei video Che Si usciranno Non Lo so Ancora Devo Ancora Pensare I giorni Sono Libero Perché Come Avete Visto L'ultimo Video Caricato È Stato Tre Settimane Fa Quindi Poi Ci Penserò A Questo Diciottesima Sono Strano Dire Diciottesima Però Diciottesima Compre Mia Avanzerò Con la Tecnologia Nel senso Comprerò Un microfono Vero Telecamere Vero Veri Vero Ragazzi Perché Quelle cose Costano Assai Diciottesima Ah Sì Vi farò L'ennesimo Cosa C'è Nel mio Telefono Bello Non ce l'ho Le notifiche Di Whatsapp Se noi Mi 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 Farò Altri Video Di Cosa C'è Nel mio Telefono Sì Ragazzi Ve li Farò Vi accontento Però Questi Questi Sono Gli Ultimi Che Faccio Diciannovesima Cosa Posso Dire Per Diciannovesima Ah Sì Vedrete Mai La Faccia Di Gala E Sta Cosa Mica Ve Lo Se Se Farò Vedi La Faccia Quindi Diciannovesima Già La Mostrerò Mai La Faccia Probabilmente No Perché Non Non Vuole Però Se Sono Grandi Diciannovesima Mi Farò Dei Video Installazioni Tipo Di Windows 7 Windows 8 1 E Così Via Sì Ragazzi Però Anche Per Quelli Naturalmente C'è Tempo Non È Che Nel 2021 Subito Faccio Tutte Ste Cose Naturalmente Dovete Darmi Tempo Perché C'è Anche La Scuola Che Rompe Le Balotas Però Quindi Appena Troverò Del Tempo Naturalmente Penserò A Caricare Anche Il Video Tranquilli Perché Voi Siete Sempre Amici Cioè Siete I miei Amici Siete I Fan Avete Anche Il Nel Numero Potete Anche Chiamare Di notte Vabbè Questa Cosa La Scartiamo Quindi Sì Vi Farò Dei Video Instalazioni Dei Sistemi Operativi Sì Però Dovete Darmi Tempo Quindi Infine Ventesima Ok Ventesima Cosa Posso Dire Per Ventesima Ah Sì Vi Mostrerò Mai La Mia Eh La Famiglia Vi Mostrerò Mai La No Non Era Questo No Non Era La Mostrerò Ma Era Qual Era Ah Sì Farò Mai Una 24 Ore Challenge Beh Non Non So Dare Una Risposta In Questo Momento Non Me La Sentò Di Laro In Questo Momento Però Bisogna Vedere Un Po Da Quale Challenge Devo Metare Qualche Challenge Devo Portare Pure Di Di Quelle Che Fanno Le Challenge Provano Ieri 24 Ore La Dove Per C'è 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 Vabbè Ragazzi Quindi Per Le Domande Abbiamo Finito Se Volete Fatemi Altre Domande Io Vi Organizzerò Un Video In cui Vi Risponderò Quindi Se Volete Fatemi Altre Domande I Commenti Sono In Basso Io Vi Ringrazio Di Darmi Tutto Questo Sostegno Non Dimenticate Vene L'8 Dicembre Marted 8 Di Dicembre Quindi Settimana Prossima Di Attivare Le Sveglie Perché Accenderemo Le Maledettissime Lucine Finalmente Domani Forse Vi Faccio Anche Il Video In 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 Vabbè Comunque Ragazzi Questo Video È Finito Voi Sarete Sicuro Contenti Quindi Ragazzi Il Video Finisce Qua Iscrivetevi Al Canale Attivate La Campanellina E Noi Ci Vediamo L'8 Dicembre Con L'accensione Delle Benedettissime Luci Goodbye E State Bene L'accensione Dicembre Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione